Gandal Filcane della squadra ricerca molecolare dell'unità cinofila dei carabinieri di Firenza ha ripercorso questa mattina le tracce del 25enne scomparso da Arezzo alcuni giorni fa, dal punto dove è stato abbandonato il suo motorino a pochi metri dal ponte di Pratantico a quello dove sono state ritrovate le sue scarpe, un paio di spadrilla sgrigie lasciate ai piedi della spalletta del ponte e proprio lì si è fermato, in quel punto si interromperebbero infatti le tracce del ragazzo che manca da casa dallo scorso venerdì sera, l'allarme era partito a seguito della denuncia di scomparsa presentata ai carabinieri, le ricerche così da giorni si sono concentrate nella zona del ponte di Pratantico battuta palma palmo la zona del quaiodromo del canale di scolo della Chiana sino alla chiusa dei monaci ma ancora il giovane sembra scomparso nel nulla, al momento nessuna ipotesi viene esclusa all'opera da giorni carabinieri, polizia, vigili del fuoco e da questa mattina anche cani molecolari nei giorni scorsi inoltre sono intervenuti sommozzatori da Firenze che hanno cercato negli anfratti del corso d'acqua ad oggi però senza alcun esito, le ricerche che dallo scorso sabato non si sono mai interrotte adesso riprenderanno domani mattina